Questa edizione del Grande Fratello Vip ha regalato grandi emozioni, ma soprattutto ha visto nascere numerose storie d'amore. La prima in ordine di tempo è quella che vede protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. I due si sono scambiati il primo bacio dopo pochi giorni dal via del programma. Una storia attravagliata e fatta di tanti alti e bassi, ma una volta usciti dalla casa hanno proseguito mostrandosi, anche sorridenti sui social. Proprio alcuni utenti hanno però notato un dettaglio, per diverse ore passato inosservato, ma che poi è inevitabile stato scoperto. Si tratta di un gesto inaspettato arrivato dalla famiglia del nuotatore nei confronti della giovane principessina etiope. Una mossa che adesso rischia di compromettere la serenità che i due hanno costruito in questi mesi, non senza difficoltà. In queste ore alcuni utenti dei social hanno notato una mossa inaspettata da parte di Franco Bortuzzo, padre del nuotatore ed ex geffino. L'uomo, secondo questa segnalazione, avrebbe smesso di seguire improvvisamente la giovane Selassie su Instagram. Un dettaglio considerato dagli utenti non da poco, vista l'importanza dei social oggi, ma soprattutto considerato che proprio Franco Bortuzzo ne ha fatto un largo utilizzo. Mentre il figlio si trovava nella casa più spiata d'Italia. Secondo gli utenti dietro questo gesto potrebbe nascondersi un rapporto poco solido tra la principessina e la famiglia del fidanzato. Una clamorosa ipotesi arrivata anche perché nei primi periodi della loro storia d'amore, proprio papà Franco, sembrava nutrire numerosi dubbi. Una questione che adesso rischia di trasformarsi in un giallo anche perché Lulu in queste ore ha pubblicato alcune. Stories in compagnia proprio di Manuel. Un gesto quindi al momento inspiegabile, ma che adesso rischia di scatenare una serie di eventi a catena.